Sulla regione dopo l'instabilità degli ultimi giorni fluiscono ancora correnti umide settentrionali per una parte diciamo poco significativa però di questo fine settimana, infatti nella giornata di sabato al mattino ancora nuvolosità variabile per la flusso di queste correnti umide in quota, poi un miglioramento, avremo condizioni più stabili, quindi in giornata di sabato un cielo in prevalenza poco nuvoloso, la possibilità di locali, pioggia, rovescia è molto bassa, un po' di borino sulla costa. Al mattino venti di brezza in giornata, temperature indieve rialzo ma nei valori medi del periodo con temperature massime in pianura intorno ai 30-31 gradi, intorno ai 27 gradi sulla costa. La giornata di domenica vedrà bel tempo al mattino con cene prevalenza sereno su tutte le zone, in giornata un po' di nuvolosità sulle zone orientali e la possibilità anche qua di locali, pioggia è molto bassa, temperature più o meno in linea sui valori del giorno precedente. Anche l'inizio della prossima settimana lunedì tempo stabile con cene prevalenza sereno poco nuvoloso, temperature sempre intorno ai 30-32 gradi, le massime in pianura, un po' più di affa e umidità in arrivo martedì, probabilmente maggiore variabilità sulla zona montana e possibili rovesci e qualche temporale in serata. Buon fine settimana a tutti!